Per la posa di Virabhadrasana 3 o il guerriero 3, ci portiamo all'inizio del tappetino, lasciamo salire il ginocchio verso l'alto, portandolo verso il centro allunghiamo la gamba indietro e contemporaneamente le braccia scivolano in avanti. Sentiamo l'appoggio del piede a terra, spingere l'interno delle cosce una verso l'altra per allineare il bacino. Le mani si allungano in avanti mentre il tallone della gamba dietro si allunga indietro. creando due forze opposte che ci permettono di mantenere la posa.